ciao ragazzi di nuovo insieme oggi non è una lezione ma è un tutorial almeno ci provo perché non sono propriamente la persona più indicata per fare certe cose però ha chiesto un mio amico Antonio quindi non posso mancare perché è una persona a cui tengo veramente e in più col tempo tanti ragazzi allievi mi hanno chiesto che programmi software app utilizzo per studiare allora prima che appunto sfrutto la domanda di Antonio per aprire magari una serie di video la prima che vi presento che è poi diciamo l'app che anche poi si trova per computer per l'ipad va su tutto sul telefono è Arial Pro la utilizzo mi sembra da più di dieci anni col tempo si è evoluta è diventata veramente uno spettacolo provo a darvi tutte le il mio piccolo con tutta la massima semplicità possibile come sempre tutte le informazioni riguardo le funzioni principali cosa si può fare in che modo eccetera quindi giro lo schermo ora vediamo se riesco per una volta essere concreto e veloce ma questa è la schermata iniziale partiamo il presupposto che questo è Arial sul Mac quindi poi magari vi metto delle foto dall'ipad o dal dall'iphone esiste anche ovviamente la stessa identica versione per chi ha android windows eccetera è un'applicazione in programma che è stato poi implementato tutte le tutti i vari sistemi operativi eccetera allora la pagina iniziale la schermata iniziale e vedete qui dove c'è scritto brani è quanti brani ho io scaricati o creati scaricati perché c'è un forum che è qui dove c'è questo segnettino qui cliccandoci si apre diciamo il sito la sezione forum del sito di Arial dove potete scaricare intere librerie divise per generi latino pop rock blues jazz ci sono sia le librerie quindi intere playlist con centinaia di brani oppure con la funzione cerca non mi ricordo ora dov'è perché un po' che non la uso tipo qui e se cercato un determinato brano io ho scaricato veramente il mondo perché fa parte del programma dell'app insomma quindi ora mi trovo con undecimila brani insomma da quelli che ho creato di a quelli che ho scaricato cosa succede che io la utilizzai all'inizio e studio si può utilizzare anche per leggere gli accordi in live cioè nel senso ora io qui ho ad esempio la la playlist la scaletta della mia band principale il tributo ovviamente ora sono anni che ci sono non leggo più gli accordi però mettendo in ordine di scaletta i vari brani la posso utilizzare anche dall'ipad giusto solo per o se a volte o dell'apsus e quindi mi leggo gli accordi oppure anche proprio per l'ordine dei brani questa è una funzione ossia all'ultimo magari cantante decide cambiare tonalità e un pezzo magari mi torna scomodo insomma vado nella tonalità la cambio e al volo mi cambia insomma tutto poi ovviamente questo è una cosa personale quindi sono e poi qui ad esempio tutto il repertorio mio tutti i brani che che ho insomma nelle varie formazioni eccetera dicevo quando la presi la studiavo soprattutto la usavo soprattutto per studiare jazz quindi mettevo di standard infatti qui ho sempre la playlist con di standard e vi faccio vedere come la utilizzano all'epoca ma l'utilizzo anche tuttora prendiamo uno standard giusto di apre la insomma la sequenza armonica la lista degli accordi che sono totalmente editabili a partire dalla tonalità poi modifica io se qui invece di do major 7 voglio solo do rendo solo do se voglio do vedete 10 milioni di tipi di accogli ad nona e di conseguenza poi quando andrò ad ascoltare nei vari stili possibili immaginabili la base che si crea invece suonarmi do major 7 mi suonerà do in questo caso ad nona quindi io posso editare modificare gli accordi come voglio cioè in tutte le maniere possibili voglio togliere uno mettere due battute di la minore ad esempio faccio così questo è il segnettino della ripetizione eccetera poi che dire una volta che ho deciso gli accordi modificati eccetera si va ad ascoltare e si può fare veramente anche qui in 12 milioni di modi ora questa sezione jazz io ad esempio metto made in app swing di base mi da lui un tempo vedete 160 modificabile siamo 180 ascoltiamo l'audio del computer aggiungo la batteria accogli le stesse vuol dire che pianista virtuale si prende la licenza diciamo di suonare come carlo vuole oppure accordi semplicemente il tra basso vedete posso cambiare anche proprio strumento l'audio del giusto riusci a contrabbasso e metto in fretta all'altro la velocità pure lo stesso brano metto proprio la ballade quindi mi darà ovviamente 60 il batteria suonerà diversamente quasi dallo spazio in post giri oppure metto anche in loop una determinata sequenza di accogli se io voglio studiare sono anche proprio diciamo voglio studiare l'accordo do ad nona lo metto in loop magari tolgo la batteria e sento la sonorità dell'accordo per esempio altre funzioni andiamo a vedere magari in un contesto più pop queste sono le progressioni di accordi che io uso per studio questo esercizio è per quarte quindi studiamo tutti gli arpeggi maggiori settima per quarte se volete sentire la sonorità dei vari accordi senza la ritmica ad esempio c'è long notes che si può mettere un pad eccetera oppure le progressioni vedete modali sequenze armoniche più importanti quindi primo sesto secondo quinto lo metto sento come suona e ci studio sopra questo sta parlando con la licenza ad esempio se vado nel latin metto anzi neanche qui tipo bossa se voglio studiare il cambiando più sul pop cambia tutto shuffle ad esempio ok questo mi ricordo bene cos'è ok questo mi ricordo bene cos'è insomma questo è qua tutto d'esempio poi 251 qui ci ho veramente studiato anni e anni che poi cambio tonalità tre secondi quindi da sol minore mi bemol minore eccetera stessa cosa altre funzioni esercizi sul tempo quindi vedete aumenta il tempo di 5 bpm ad ogni giro e 3 bpm eccetera esercizi sulla trasposizione quindi trasponi di un semitono da ogni giro tutta roba che per studiare poi si possono cambiare ripeto i suoni e la batteria invece di suonare la batteria si può mettere click o click sul 2 sul 4 molto utile nel jet quindi suonerà così dappertutto eccetera una volta poche Avete volete magari a base per utilizzareんだ in altri i programmi cioè esporta audio addirittura esporta mi esporta tutte le tracce medie oppure in altri formati Esporta partitura Si può fare sia con un brano solo Oppure con un'intera playlist In formato Arial Se la volete inviare tra amici e colleghi Oppure se dal computer la volete inviare al telefono In formato Arial Esporta playlist E l'aprite dal telefono Oppure PDF Vi da tutti gli spartiti Di una determinata playlist in PDF Form Questo mi ricordo cos'è Insomma ragazzi C'è veramente di tutto Ora io sicuramente mi scordo Qualcosa Poi ci sono tante impostazioni Se volete Invece della M Minuscola Il meno alla vecchia maniera Per gli accordi minori Colore del testo Colore del sottofondo Evidenze simboli Chiave di violino Anche perché poi c'è tutto un discorso Che io ora sono anni che non uso Qui addirittura c'è la possibilità di sincronizzare tutti Se avete Arial sui vari dispositivi Vi sincronizzate Quindi se modificate su computer Vi si modifica automaticamente anche su Telefone Eccetera Poi Dicevo c'è anche tutta una parte Che ora è Ripeto Un po' che non lo uso Non mi ricordo dov'è Dove ci sono anche tutti Gli accordi Vedete Accordi chitarra Accordi culelle Scale C'è Che ti senti tutto In questo programma Ripeto Io Probabilmente Mi scordo qualcosa Quindi vi invito A chiare I miei ulteriori Informazioni Riguardo a quello che Mi sono dimenticato di dirvi E Questo è qua Tu c'è Prendi un'infinità Di Di brani Ad esempio Se devo studiare Tu non mi basti mai Dov'è L'avevo vista prima Di Lucio Dalla Ho tutta la griglia Degli accordi E già sono Insomma Avantaggiato Tante me le sono scritte da solo Tante Le ho trovate Ecco Magari italiane si trova poco Qualcosa si trova Ma non molto La roba internazionale Si trova già Di partenza Quasi tutto Diciamo E quindi Può essere solo magari Da correggere O Se la fate In una tonalità Diverse Eccetera Vedete Cioè Veramente Tanta roba Oltretutto Per studiare Gli accordi È fenomenale Perché Come avete visto prima Togliamo un attimo Il studio degli accordi Ad esempio Dossi e etima alterato Se io non conosco La sonorità Metto in loop Un accordo solo Quindi Dossi e etima alterato Lo rimetto Lo rimetto Anche Anche qua Lo metto in loop Parco Parco Il suono così Vabbè Messo shuffle Vabbè Però, insomma, vi fate un'idea anche della sonorità di determinati accordi, che alcuni sono veramente molto, molto complessi, cioè, di tutto, vedete, aumentati, ad, no, c2, insomma, meno cos'è, semi diminuiti, diminuiti, diminuiti con la settima maggio, cioè, veramente, il mondo, don minore, bemolle, sesta, guardate qua. Qui c'è veramente tutto, veramente tutto. Poi, a ogni brano potete dare un titolo vostro, cambiare lo stile, insomma, questo è il grosso del programma. Poi, ripeto, se avete ulteriori domande o approfondimenti da chiedermi, sono qui, altrimenti ci vediamo, magari, al tutorial di un altro programma utilissimo, che per ora non vi svelo. Ci vediamo al prossimo video.